Sono convinto di una cosa, che questo libro di Platone, che come ha detto ingiustamente Francesco non andrebbe tradotto repubblica, questo libro di Platone ha come fulcro trasinaco e ha come idea di fondo che se Trasimaco ha ragione e non viene smentito, non gli si risponde, non nasce nemmeno la filosofia. La politica non è altro che banale gioco di sopraffazione di questo su quello e i saperi sono soltanto saperi tecnici rivolti alla produzione di utile. E la filosofia non viene messa al mondo e per mettere al mondo la filosofia bisogna prendere una decisione e la decisione, come tutti sappiamo, è infondata e la filosofia si porterà sempre dietro questa infondatezza. Cioè il fatto che si può benissimo vivere senza e che la filosofia non si autogiustifica, che ha un tratto di contingenza proprio nel momento in cui è rivolta apparentemente contro la contingenza. Insomma Platone ci dice che nasce la filosofia quando al lupo, al lupo trasinaco, si dice no caro trasinaco, hai torto perché l'uomo è in quanto uomo non un lupo e non è nemmeno un uomo, si è uomini in quanto si sa di dovere e di potere essere quasi digno. Se non c'è questo punto, questo gesto assoluto, dove assoluto vuol dire infondato, se non c'è questo gesto non parte la macchina filosofica, la quale macchina filosofica ha bisogno della duplicazione del mondo, cioè delle idee, ma molto di più, ecco, e dunque ha bisogno della metafisica, ha bisogno della metafisica, ma molto di più ha bisogno del bene che è al tempo stesso idea, cioè qualche cosa di cui si può dire, alcunché, e più che idea, cioè è il segno più messo davanti alla metafisica, ovvero è questo convincimento infondato che è possibile che ci sia qualche cosa piuttosto che in nulla, che ci sia qualche cosa e che questo esserci di qualche cosa sia in sé bene, e che è bene che l'uomo si sforzi di essere non lupo, non solo che l'uomo possa esserlo non lupo, ma che è bene che si sforzi di essere lupo. Cioè, inevitabilmente questo ha una doppia faccia, la faccia della separatezza e la faccia della aderenza. La separatezza mi devo distaccare dalla città per salvarla. L'aderenza devo sporcarmi le mani con la città perché in realtà la filosofia nasce per salvare la città, per far sì che la città sia ciò che può essere e deve essere. Questa macchina ha una grandezza che veramente ci rende muti. In realtà abbiamo parlato moltissimo, sono due, sono ventiquattro secoli che parliamo di questa cosa, ma in realtà quando la si fronteggia, la si legge, insomma, la si rilegge, veramente si ammutolisce per la vertiginosa percezione della sua assoluta inequivocabilità, del fatto che non si può dire nulla contro di esse, per la radicalità con cui, quella perentorietà con cui ci interpelli. Se vuoi fare filosofia, devi stare dentro questo gioco. E sono, come dire, lieto di avere trasmesso questa idea di vertigine da cui si è presi nell'affrontare questo testo. Tutto quello che abbiamo pensato, il fatto che pensiamo alla politica invece che farla, invece che limitarci a farla, il fatto che ci sforziamo di legittimarla, anche se per vie diverse, il fatto che pensiamo che attraverso la politica passi il destino, nasce da qui e nasce contro l'idea che non c'è nessun destino, ma c'è una necessità. Una necessità diversa da quella che compare nel titolo. Necessità come compare nel titolo è la necessità di un dovere, la necessità invece a cui si potrebbero rimanere inchiodati è la necessità del così è. Per tirarsi fuori, come il barone di Munchausen, da quel così è, non ci è voluto meno che Platone e lo stesso Platone ci ha lasciato, ecco, ci ha lasciato la traccia dell'arbitrarietà della politica e dell'arbitrarietà della filosofia. Proprio quando ci ha fatto vedere che l'immensa mediazione, il periplo, la naviganza secunda, insomma, tutto quello, tutta la fatica della filosofia non si sa da dove nasca. Le filosofie sono automatoi, nascono spontaneamente, ma per caso, come le erbacce, nascono per caso, se potessero passerebbero la loro vita nascoste dietro un muricciuolo nella città cattiva o, nella migliore delle ipotesi, si riconoscerebbero, a fiuto fra di loro, si metterebbero in una specie di fortezza assediata, cioè l'accademia, ma nella migliore delle ipotesi ancora si dedicherebbero soltanto ai loro giochetti geometrico-matematici-dialettici o starebbero lì a contemplare il cielo, sperando di vedervi iscritte le equazioni della meccanica razionale, o contemplerebbero sostanzialmente la filosofia. I filosofi contemplano la filosofia, cioè una filosofia inerte, separata. No? È destino della filosofia essere separata e al tempo stesso ridiscendere. Separarsi, anabasi, l'ha detto bene Francesco, e ridiscendere, catabasi, perché altrimenti che cosa succede? Altrimenti succede l'insensatezza, cioè la metabasi. Il fatto che la città si muove, si muove secondo logiche, queste sì, politologicamente afferrabili, come un entomologo riesce a guardare un formicaio e a descrivere i meccanismi delle formiche, così Platone guarda la città non filosofica, muoversi, agitarsi e andare a finire nella necessità del così è, si va a finire nella necessità del tiranno. Qui c'è la filosofia come critica della città, oltretutto come critica di se stessa, perché macchina metafisica che afferma di essere sorretta dal bene, di essere resa possibile dal bene e di non poterlo mai afferrare del tutto. Come dire, non crediate in nessun filosofo che chiuda la filosofia in se stessa. E al tempo stesso la filosofia si chiude per difendersi e si apre per scendere, salvare e comandare nel senso di dare un indirizzo per dire agli uomini potete essere meglio. E alla fine il decimo libro non è per niente ridondante, perché nel decimo libro si dice, attenzione, la filosofia vi orienta, ma la responsabilità della vita è vostra, di ciascuno di voi. Beh, insomma, dire tutto questo e dirlo per prima, dirlo per prima, e rompere con la sapienza presocratica, prendere di petto la città, in questo modo. Capire e far capire che la filosofia è indispensabile e fragile, ho detto bene, preterosso, proprio fragile, insomma, ci fa vedere veramente da dove veniamo, di chi siamo figli. Ecco, di chi siamo figli. Dice, c'è ancora il dualismo, questo lo dice Hegel insieme alla dottoressa Livini, c'è ancora l'elemento impositivo. Certo, il che in una logica hegeliana da una parte è o democratica, dall'altra è un elemento ancora spurio, denota una debolezza, denota una difficoltà. Per Hegel la filosofia poteva, in linea teorica, anche finire la propria separatezza e diventare l'essere filosofico del mondo, il filosofare comune, cioè nello stato cristiano germanico, al culmine del proprio sviluppo civile, l'umanità è filosofica. Platone non poteva dire questo perché non era al culmine di niente, perché non può, non vuole, non riesce a pensare quel dinamismo che invece può consentire a Hegel di pensare, mescolarsi della filosofia col mondo. Quel dinamismo è il lavoro. Platone, l'uomo dell'antichità, non crede per nulla che il lavoro, questo marchio della necessità porti con sé la possibilità della libertà. La libertà la conquisti in un altro modo, con la virtù, non con la fatica. Questa è la differenza, ma mi permetto di dire che è una differenza enorme, ma al tempo stesso empirica rispetto all'uguaglianza dell'impostazione, cioè alla posizione del problema. Platone ci serve, se ce ne vogliamo servire, per ricordarci perché siamo filosofi, perché ci sforziamo nella infinita piccolezza di essere filosofi. Qual è l'origine di questa malattia che ci separa dal mondo e al tempo stesso ci mette in grado di capirlo, di giudicarlo e a volte perfino di volerci mettere le mani dentro? Ecco, l'origine è che il filosofo è stato ucciso ed è stato ucciso secondo la legge e non per caso, è stato ucciso in un processo in cui si è potuto difendere. Il filosofo è stato ucciso, non c'è posto per lui nella città. E noi diciamo bene, ci deve essere posto. E questo perché lo diciamo? Perché crediamo, e credere non è, e viene prima che pensare. Perché crediamo che sia possibile, che ci debba essere questo posto. Appunto, potenza e fragilità, potenza e contingenza, bene, metafisica, azione, praxis. Una praxis che è educazione, essenzialmente. E l'arte, dice Preterossi, ma è evidente che noi non rinunceremo all'arte, però, stiamo attenti, noi non rinunceremo all'arte perché facciamo i filosofi. Perché l'arte per noi non è divertimento, diversione. Per Platone, invece, l'arte era quello che per noi era televisione. Quando pensava alla tragedia, pensava a una cosa che non si legge da soli nella propria stanza. Pensava a una rappresentazione a cui partecipava fino a un terzo della popolazione che davvero si immedesimava in Agamennone e che davvero si immedesimava in Edipo e che davvero credeva che la cosa più importante che si può fare al mondo è lamentarsi del proprio destino. Oppure l'arte è la commedia, che aveva lo stesso numero di spettatori e che sostanzialmente diceva che, sì, è vero, la città non si regge sulla virtù, non si regge sui grandi ideali che essa proprama di sé, che si regge sul vizio, ma che il vizio è insuperabile. Cioè, era la televisione che trasmette a volte filmoni drammatici, a volte della paccottiglia trash, ma che comunque cattura l'attenzione dei più per non far pensare ai più ciò che essi invece potrebbero e dovrebbero pensare. In questo senso l'arte è nemica della filosofia. Platone non sapeva che avremmo guardato con reverenza ai bronzi di Riace e con amore a Edipo Re. Non lo sapeva, perché per lui quella era roba popolare. E allora la prima cosa che bisogna fare al popolo è sottrargli i giochi con cui si diverte, perché non ci si deve divertire, ci si deve concentrare. Concentrazione. Quello che verrà dopo non si sa. Certo, è un mondo per noi strano quello a cui allude Platone, ma insomma, il punto è mettere in moto la macchina. E lui l'ha fatto. E ha anche detto, la metto in moto per scommessa contro Trasimaco che non sia mai che abbia ragione lui. Perché non è vero che l'uomo è un lupo, l'uomo può essere lì. Quasi. Tutto c'è una scommessa, cioè ha un'alea, ha una incertezza. L'universo della certezza nasce dalla incertezza. Bene, proviamo. Non importa, continuiamo. Quando Max Weber diceva non importa, continuiamo, non lo sapeva, ma stava dicendo non c'è motivo per tentare di essere, di fare del mondo qualcosa di razionale, ma continuiamo lo stesso. Ecco, io da studioso del pensiero moderno e contemporaneo vedo questo in Platone. Gli antichisti mi perdoneranno, non ho mai preteso di fare il filologo classico, però rivendico a noi che studiamo filosofia il diritto dovere è di leggere Platone, ecco, e di leggere la Repubblica, e di trovarlo più che affascinante, di trovarlo una potenza che si impadronisce di noi. E se ho trasmesso un atomo di quella potenza o del rimbalzare di quella potenza dentro di me, ne sono felice e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.